Sei una recluta e non vuoi perderti neanche un video di Rocket? Beh, facilissimo, premi la campanella per abilitare tutte le notifiche e seguimi sui social che troverai in descrizione, la pagina Facebook, il canale di Telegram e la nuova pagina di Instagram. Buona visione! Salve utile a tutti qui Rocket e benvenuti ragazzi, finalmente la randomizer Egglock, come sempre, nella campanella versione a Pokémon Ultra Luna. Siamo sempre qui ragazzi fuori dal supermarket abbandonato, dove nella scorsa volta abbiamo sconfitto il Dragonite dominante, e schiuso diverse uova, se non ho sbaglio tre uova, ovvero insomma un Froakie Shiny, un Onyx e un Mewtwo se non ricordo male, quindi Pokémon assurdi. Mi raccomando ragazzi, molto carichi in questa parte, con tanti mi piace, proviamo a superare come sempre i 300 like ragazzi, mi raccomando, conto su di voi, un bel commento qui sotto e come sempre una bella descrizione al mio canale. Allora, ragazzi, tante catture in questa parte e andremo ovviamente, perché se no cosa stiamo qui a fare? Andiamo anche avanti nel gioco. Prima cattua, supermarket abbandonato, edificio abbandonato, possiamo così dire, per la, insomma, terminologia, quella giusta Rocket, veramente sii preciso con i tuoi iscritti. Abbiamo uno spoink ragazzi, uno spoink in un edificio abbandonato, quindi attenzione, una molla creepy, ok. Giovannone, abbiamo Giovannone ragazzi, che ovviamente in questo posto è un po' a casa sua ragazzi, Giovannone è il maestro degli spetti di questo gioco, perciò è molto, molto ambientato. Allora, per favore Giovannone, portaci fortuna come manco fosse un amuleto e catturiamo questo spoink, che è la prima Ultra Ball, prima Ultra Ball ho detto. Quindi ci siamo riuscendo incredibilmente e ci siamo riusciti ragazzi. Tempo record, quindi questo significa meno tempo per le catture, più tempo per altro. E la cosa ragazzi mi fa piacere perché è più, insomma, come posso dire ragazzi? Porta più intrattenimento questa cosa qua, meno tempo per le catture, più per gli allenatori e tanta ignoranza, possiamo così dire. Ok, il spoink non ha nessuna mega pietra, ha un PS su, attenzione, altro che le mega pietra, abbiamo il PS su. Peccato che non mi servirà quasi a niente, quindi spoink nel box, proprio dritto nel box, l'inchiuso, buttiamo via la chiave. Ok ragazzi, la prima cattura è andata, la seconda sarà proprio qua fuori, attenzione, il percorso 14 non l'aveste mai detto, immagino. Allora, qua si può tipo pescare, oppure andare con l'Apros, è purtroppo con l'Apros, guarda un po' il caso. E c'è anche tipo un MT ragazzi in questo percorso, tipo Palla Ombra, l'anomizzata, quindi sarà molto interessante vedere un po' cosa ci offre il gioco. Che bello, tutti i Pokémon così minuscoli, così indifesi, pure Mentaic ragazzi, un Pokémon Baby di Sinn, proprio. Guarda, guarda, non potrei essere più felice di così. Quindi, borsa e tentiamo ragazzi di nuovo la fortuna con una Ultra, va bene anche nel Subball, ma andiamo di Ultra, proprio di ignoranza. A livello 33 ragazzi, quindi praticamente, insomma è un Pokémon divino già questo, 33, Mentaic, Mentaic, t'avevo detto di sta... Zuffa, sì vabbè, Giovannone ragazzi è immune a queste cose, Giovannone... Giovannone non può essere preso dalla Zuffa, cioè Giovannone ragazzi è più alto della Zuffa, non può, non può. E cioè, è quasi come il Divino, è sotto il Divino. No, dai, però, non puoi, non puoi fare così. Allora, allora, la Zuffa, potrei usarla, ma perché, chi è che me lo fa fare, chi è che me lo fa fare ragazzi, nessuno. Ho le Ultra Ball, poi non posso neanche indebolirlo perché sennò se lo tocco esplode in acqua o qualcosa, cioè, manco un po' che artificio ha capodanno. Sì, ho capito, ma... È proprio fissato, fissato con sto... fa due giri e poi, paf, esce fuori. Esce, vabbè, vabbè, vabbè. Dai, però, ti prego, stacce, non voglio... Oh mio Dio, oh mio Dio, è un Pokémon Baby, è un Pokémon Baby e mi sta facendo perdere i minuti, i minuti della vita ragazzi. In cui potrei pregare il Divino, invece no, devo catturare un Mentaic, il Mentaic... Ah, vabbè, il Mentaic devo catturare, vabbè. Lo cattureremo adesso, lo cattureremo adesso, veramente. Non l'abbiamo catturato, comunque cosa mi dice, cioè, vabbè, raga, cioè... Ma perché, ma perché? Perché, dai, guarda, sono brava e ti faccio un lanciafiamme. Solamente perché sono brava, se non ti avrei fatto palla a ombra. Ho addirittura, ma mostro, ho detto che è tipo spettro, perché mi stai facendo veramente girare, ma tutto mi fa... No, ma a quanto pare ho fatto la cosa che ho sbagliato io, raga. Ah, a quanto pare ho fatto la cosa che ho sbagliato io, perché non è possibile una cosa del genere, no, veramente. Tra l'altro, ragazzi, la cosa bella è che quel Mentaic, alla fine ha chiamato proprio un alleato e ha risposto Mega Tyranitar. Quindi, di nuovo, con le neghe evoluzioni. Poi, vabbè, il Mentaic l'ho fatto esplodere, quindi, ragazzi, non c'è più, purtroppo. Adesso è insieme al Divino, quindi, ragazzi, è in mani buone, molto buone. Però c'è quel coso, ragazzi, ingombrante. Adesso devo catturare lui, per forza, sennò prendo la cattura. E vediamo poi, è pure avvelenato. Quindi, ragazzi, il tempo stringe, stringe come una mossa volgibotta. Oh, mio Dio, non c'è stato. Flagello, sì, vabbè, flagello non mi fa niente. Però, ragazzi, il problema è che l'ho avvelenato con sporcolancio di Geridos, quindi dovresti starci alla svelta, caro. Perché, sennò, vai anche tu insieme a Mentaic, dai, ti prego, starci, please. Oh, mio Dio, il percorso 14, ragazzi, è maledetto, veramente, da, non lo so, dai fantasmi, dal, non lo so, dalle rocce, da là, non lo so, non lo so. Non lo so, ragazzi, è impossibile il percorso. E mi ha pure avvelenato anche a me. Wow, non vedevo l'ora. Ho ancora un auto, poi non ho più niente, praticamente, di efficace così tanto contro di te. Dai, veramente, veramente. Basta, basta. Non ci sta sto coso, ma no. Tanto, tanto alla fine muori col veleno, quindi problema tuo, eh. Cioè, problema tuo. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Le mega, le ma... Uh, le chicball! Uh, le chicball! Beh, se dipende da quella chicball, sono contento, ragazzi. Infatti, mi piace veramente tanto la chicball. E stacci in sta chicball, che bel! Oh, madonna, ragazzi. Madonna, madonna, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, già, questo coso. Veramente, veramente. Cioè, vedi di stare in questa chicball. Perché è la tua ultima occasione per venire insieme a me, nella mia mitica avventura. Poi, vabbè, stai chiuso nel box e mando dettagli stramontante. Ma non mi fa niente stramontante alla fine. Sono un tipo volante, quindi... Ma vai via, fai solo ridere. Eh, quanto, quanto gli manca per morire? Eh, eh, decisamente, decisamente poco. Mmm, cosa potrei fare? Chicball? Vieni perfezionati. Mi sembra un pochino arrabbiato quel coso. Quindi, prendiamo la megawall. Anche se è dubito che ci starà ormai, ragazzi. Ha sprecato tutte le ultavol, sto coso. Me ne ha fatte sprecare tutte. Tutte! Tutte! Qui insieme al suo amico Mentaic. Adesso vedi che ci sta nella... Ecco, ecco appunto. Vabbè, vabbè. Lasciamo stare. Non ho detto niente. Ci ho messo 10 minuti a beccare un Mega Titanita nella megawall. Quindi, vabbè ragazzi, ma che stiamo qua a fare? Veramente, mi sono preso un sacco di esperienze. Anche Giovannone è 40. Ha fatto cifra tonda. E poi mi impara Smog. E allora rovina tutto il buon Giovannone, ragazzi. Così, però, eh. E, eh, cavolo. Ok, Mega Titanita nel Dex. Direttamente come Mega Evoluzione, ovviamente. Così, ragazzi. Pokémon normalissimo che si incontra nella vita di tutti i giorni, ragazzi. Che io non incontro Mega Titanita andando a scuola. Penso chiunque lo incontra. Allora, nel suo soprannome. E avrà qualche cosa di interessante? Qualche Mega Pietra strana? Vediamo un po'. No, niente. Sobrio. Non ha niente questo Mega Titanita. Ok, ragazzi. Allora, mi serverebbe adesso andare in quella piattaforma là. Però, ecco, incontro, incontro tipo tutti i discepoli in questo percorso. Sì. È di nuovo lui. Ma pensavo fossi esploso. Invece, invece, a quanto pare, non così tanto esploso. Scusa. E tu chi saresti? Oddio, ragazzi. C'è una cosa strana con i frillish. Posso passare lo stesso? Scusa. Ok. Ok. Quindi sono randomizzati questi frillish, mi stai dicendo? A occhio mi sembra randomizzato. A occhio. Cioè, mi sembra, eh, raga. Va bene. Volcanion, che in passato era anche un frillish. In passato. Una medusa. Nella vita precedente era appunto un frillish. Va bene, raga. Ma perché? Perché Volcanion come frillish? Va bene. Ok. Terremoto. Ragazzi, ma quanto è magico questo Pokémon. Quanto è magico nell'anima. Veramente. È una cosa incredibile. Magico, ragazzi, è veramente sull'onda dell'entusiasmo. Ok. I frillish hanno preso l'argo. Il Volcanion ha preso l'argo. Quindi. Ah. Non mi avevo dimenticato che c'era questa cosa. In un'altra solita luna. Evidentemente, ragazzi, l'hanno messa. Quindi. Ok. Il nostro incontro è molto speciale. Ma mica tanto, sinceramente. Mica tanto. Un destino comune mi dà. Tanto bellissimo, ragazzi. Le scale che si vedono anche sott'acqua. Ha veramente un grande, grande effetto. Spero di rivederti. Ciao. Io no. Ciao. Vabbè. No. Questo qua non voglio affrontare. Non volevo affrontare questo tizio. Non volevo affrontare questo tizio. Non volevo affrontare questo tizio. Oh mio Dio. Ma chi l'ha chiamato? E la... E' pure la maestra, ragazzi. Spartaco segretario. Proprio un nome da segretario, eh. Spartaco con Grabbin. Bene. Grabbin. Così random, ragazzi. In questo luogo buio. Veramente non si vede nulla. Non si vede nulla. Zero. Sì. Beh, sempre si cita di magico, intanto. Che già 38 ma gli altri sono molto, molto alti di livello in ogni caso, eh. Allora. Ehm. Direi di fare, non so. Psicozanna, dai. E' un Grabbin. Santo. Santo magico. Ti pare... Non lo butta giù. Non lo butta neanche giù. Cosa? Brucia tutto con siccità. Interessante. Interessante. 6PS con siccità. Molto, molto bene. Che bel boost, mi dicono. Vabbè, quelli belli. Va bene. Bye bye, Grabbin. Bye bye. Il prossimo... No, poi mi prendo un MT e me ne vado senza dire niente. Luxio. Terremoto confirmed, ragazzi. Proprio incredibile. Sarà Shiny? No. Non è un Luxio Shiny, ma è un Luxio con Terremoto, oltretutto. Quindi... Lanciafiamma. Ma sì, ma... Ma tutti, guarda. Anche Incrofiamma adesso. Generatore V. Tutto, tutto. Vabbè, raga. Cosa abbiamo appena visto? Due Pokémon con mosse fuoco. E c'è siccità in campo. Siccità in campo. Avete capito bene. È una cosa assurda. Ok, Spartaco. Bye bye. Non ce l'ho saputo, sei inutile. Sei veramente inutile. Spero almeno che l'MT mi sia valsa, appunto, il tempo perso. Vediamo un po'. Speriamo che sia una cosa buona. Vabbè, vabbè. Zuffa. Zuffa. Già visto prima su mentali che l'abbiamo ripresa, ragazzi. Buona. Zuffa è un'ottima mossa, ragazzi, di quarta generazione. Una mossa che io usavo sempre con Staraptor. È veramente il top, ragazzi. Zuffa. Ok. Quindi, se ce la faccio a arrivare a riva, veramente a traccare il mio Lapras, possiamo andare avanti. Allora, ci sarebbero due Pokémon da scrivere per le uova, ma voglio andare prima avanti, ragazzi. Se no, noi rimaniamo qua incollati nel percorso 14-15. E mi dà un po' fastidio. Vorrei andare un po' avanti, ragazzi, in questo episodio. Almeno un minimo. Sarebbe bello andare avanti tutti insieme. Se no, che episodio della Egglook è? Eh, ragazzi. Scusate. Ma dai, Rocket è sicuramente il meglio qualità, eh. Il meglio qualità. Wow. Che italiano, ragazzi. Veramente pazzesco. Incredibile. Incredibile questo italiano. Veramente. Allora, a parte le cavolata, andiamo avanti. Per questo qua c'è il percorso 15, dove ci manca da fare una cattura. Ma la faremo poi, penso, in questa parte. Sì, perché andremo un po' avanti. Uh, c'è un party qua. C'è anche Au. Ci sono due reclutati in scalle. C'è Malpi che è apparsa a caso, ragazzi. Spamata a caso. E poi c'è anche Plumeria, che affronteremo proprio in questo momento. Quindi, andiamo, ragazzi. Contro Plumeria. Noi cerchiamo proprio il personaggio più difficile da affrontare. Ovviamente, che è un bambino con una mazza da baseball. Ok, ce la vuole tirare addosso con la mazza da baseball. E mi tira un orsi. Ok. Un sobrio orsi. Quindi, non è proprio il Pokémon più feroce di sempre. Beh, rispetto a Gaitos, ragazzi. Vabbè, Gaitos è feroce. Sì. Come se, come se è feroce. Allora. Eh, dai, terremoto. Eh, guarda. Guarda, ti rende le sofferenze una cosa abbastanza breve. A meno te ne puoi andare. Vabbè. È un orsi. E mi fa pure mal comune. Mi fa pure... Guarda. Sì, vabbè. Qualcos'altro. Non lo so. Non lo so. Quindi non posso buttarlo giù così. Con Spork Crunch ce la farò buttare giù questo coso. Spork Crunch è tipo OP come mossa, eh. Cioè, non volevo dirtelo, Gaitos. Niente. 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 Niente, raga. È impossibile. È impossibile. Non lo butterò mai giù. È un circolo che... È un circolo continuo. 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 Riflettivo. Ok. Quindi, cosa fa questa mossa che non mi... Assume il tipo di magico. Ragazzi, vi giuro. Avevo tipo letto. Assume il tipo magico. What? Il nuovo tipo di Pokémon. Ok. Vabbè. Ti faccio Spork Crunch lo stesso. Non me ne importa. Vabbè. Oh my god. Oh my god. Ma veramente. 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 Oh. Tutto ciò per un orsi. Tutto ciò per un... Pensavo non lo buttasse giù. Te lo giuro. Ah, brutto colpo. Che mi ha fatto venire appunto un colpo. Mannaggia lui. Mannaggia lui. Vediamo un prossimo Pokémon sarà... No. Rotom no. Per favore. Mi basta già quello che ho nel Dex. Per favore. Rotom no. No, da... No, ragazzi. Rotom no, però. Rotom no. Che posso mandare contro Rotom? Rotom. Mamma mia. Rotom. Mandiamo disastro, ragazzi. Mandiamo disastro. Oh mio Dio. Rotom no. Adesso vedi che Rotom è così. Random. Disastro? Che mi pare sia nella timer, se non ho visto male. Comunque sia Rotom. Oddio. E Rotom ventilatore shiny. Quindi elettro... Elettro... Cos'è? Elettro... Non mi ricordo più, ragazzi. Elettro volante. Non mi ricordo più sto typing. Oddio. C'è un vuoto di memoria incredibile. Che vuoi fare giro denti? Non mi ricordo più, ragazzi. Mi pare sia volante anche. Oppure no. Non mi ricordo, mio Dio. O elettro spettro o elettro volante. Cavolo. C'è un dubbio incredibile. Ok. Elettro volante. Perfetto. Mi ricordavo bene allora. Wow. Gli ha fatto metà vita esatta. Bello questo Rotom shiny. Molto molto piaciuto. Però continua a rotolarsi. Si aumenta la difesa. Quindi non è proprio una bella cosa. Ah. E infatti non mi sa che non lo butterò giù adesso, ragazzi. Vai. Buttiamolo giù. Please. Per poco. Per poco, raga. Per poco fa il miracolo, il disastro. Idrovampata. Azz. Questa è grave. Perché se mi scotta sono ca... No, non mi scotta. Ok. Non mi scotta. Pericolo scampato. Bene. Bye bye. Rotom shiny è molto raro da vedere, ragazzi. Molto raro. Infatti... Ed è anche molto molto carino. Anche perché trovarlo shiny tipo in quarta gen. Capitemi che era un pochino un parto. Cioè trovarlo nel tipo nel televisore shiny era veramente una cosa assurda. Ma il boss ci aspetta. Mettiamoci in marcia. Allora, di voi avete sicuramente molto in anticipo. Veramente camminando così. Veramente... Cosa? Uff. Le sfide in cui bisogna vincere per forza non sono veramente divertenti. Ragazzi, Au è depresso. Veramente. Au comincia ad essere un po' depresso. Va bene, Au. Veramente grande personalità, Au. Questo uomo è incredibile. Poveri Yangus. Quei perpotenti. Incredibile. Stavolta sembra passino che abbiano usato il cervello. Uuuuh. Incredibile. Incredibile. Cioè, non ho mai detto che Team Skull usava il cervello. E invece... E invece... Tu, Rochett. Salve al mio Yangus, per favore. Cos'è? Una caramella rara. Quindi mi aiuta a citare, mi dicono, eh. Va bene, la userò molto molto volentieri. Però non adesso. Ok. Adesso è ora di andare un po'. Non troppo, ragazzi. Non troppo. Avanti. Allora, io devo curarmi un po'. Perché mi ha, effettivamente, shottato quasi Geidos quel coso. Quell'Orsi. Non Nerotom. Orsi. Orsi. Un Pokémon minuscolo. Bene, ragazzi. E ora di andare un po' avanti qui sulla Route 15. Quindi andiamo veramente un po' leggermente avanti. Sono qua. Veramente non ci muoviamo più per le prossime parti. Attenzione. Abbiamo qua il front allenatore di Alola. Che ci affronta. Ci affronta. Alola. Diamo un po' chi è. Oddio. Ah, è il veterano. Oddio. Game Freak. Ragazzi. La Game Freak è tornata. La Game Freak è tornata. Fantastico Game Freak. Fatti sotto. Necrozma. Oddio. Ragazzi. Game Freak vuole... Vuole terminare la Egglock. Vuole chiudere la Egglock. Oddio. Necrozma. Cranina del Best of Shiny. Mamma mia. Ragazzi. Poi di Game Freak. Quindi Game Freak mi vuole dare il copio anche sulla Egglock. Oddio. Allora lì. Ho terremoto. Ti prego. Buttalo giù. Magico. Solamente tu puoi con terremoto. Ti prego. Buttalo giù qualcosa. Fai qualcosa. L'ha tirato giù. L'ha tirato giù. No. No. Oddio. Specchio Velo. Specchio. Oddio. Specchio Velo. Ragazzi. Incredibile. Incredibile. L'ho tirato giù. Quindi mi stai dicendo? Yes. Ragazzi. Mi è andata bene. Se Specchio Velo colpiva. Era andato. Ok. Non c'era neanche speranza di... No. Zero speranza. Va bene. Nekosma è andato. Quindi ottimo. E il secondo Pokémon che aveva questo tizio di Game Freak. Ragazzi. Quindi Game Freak voleva chiudermi la serie. Ma non c'è riuscita. Ho vinto io. BM. Ok. BM di Game Freak. Che un ragazzo di Game Freak viene da un altro pianeta. E cosa abbiamo qua? Sporcolancio. Terremoto. Andiamo con il terremoto. Ma noi siamo veramente OP. Quindi non ce ne importa niente di questi tizi. Vai. BM. Però BM è resistente. Molto resistente. Ah. Incanta voce. È la mossa che aveva proprio nei primi livelli questa. Beh. Un po' me come mossa. Mossa folletto. Mi pare tipo 40 di potenza. Un po' di più. Forse 60. Qualcosa del genere. Dai. Buttalo giù. Ok. Ragazzi. Ho sconfitto i padroni di Game Freak. Yes. Ce l'ho fatto ragazzi. Rochette 1. Game Freak 0. Beh. Era ovvio. Cioè. Avete dubbi. Io sinceramente no. Quindi ci sta. Specchio. Non ci credo. Non ci credo ragazzi. Specchio vero. Manco farlo apposta. No. Ma specchio vero non mi interessa usarla così. Cioè. È troppo a P. Specchio vero. Io sono a posto così con le mosse. Quindi. Niente. Game Freak. Hai di nuovo perso. Mi dicono. Tu. Tutti. Tutti. Game Freak 39. Tanto ragazzi. Non manca neanche tanto l'evoluzione di Ashkotosh. Quindi. Molto perso. Avremmo anche un bel Neuven. Sempre che non succeda qualcosa prima. Perché. Potrebbe anche succedere effettivamente. Ok. Tanto Rotom fa i suoi discorsi. Nel. Nello schema inferiore. C'è un tisto misterioso. Con una sciarpa che sta su da sola. La magia proprio. Harry Potter confirmed. Stai facendo il giro delle isole. Cosa ti porta in questo posto sperduto? Ma. Non lo so. Il vento. Direi. Il vento dell'avventura. Testo croce. Incredibile. Incredibile. Come hai fatto a indovinare? È la magia. Te lo sto dicendo appunto. Tanto veramente la sciarpa sta sulla sola. Incredibile. Guarda. C'è la sciarpa che. Boh. Vabbè ragazzi. Assurdo. Nuova moda. Nuova moda 2018 questa. Di allora. Oltretutto. Ok. Quindi riceviamo anche lo sciarpido. Del poche passaggio. E quindi. Potremmo raggiungere anche la sponda del percorso 16. Cosa che mi fa abbastanza comodo sinceramente. Quindi. Allora. Posso usare il turbo. Turbo sciarpido ragazzi. Attenzione. Il nome. Il nome è veramente inquietante. Però posso effettivamente usarlo. È veramente molto bello questo sciarpido. E facciamolo anche da catturso. Il percorso 15. Vediamo un po' cos'è. Il percorso 15. Vediamo un po'. No. Stalker. So un link. Ragazzi. È tornato Stalker. Neanche a farlo apposta ragazzi. Neanche a farlo apposta. Stalker is back. Incredibile. No. Ma Stalker no. Però dai. Non ce la farò mai a catturare il stalker. Stalker. Ragazzi. Stalker dalla solo link di Rubina e Zaffiro. Gio. Se ci sei nei commenti. Fai un segno. Mamma mia. Mille bave. Mille bave. Mille bave. Ragazzi. Veramente. Stalker. Ragazzi. Nei commenti. Mi raccomando. Vi voglio numerosi con hashtag. Stalker confirmed. Veramente. È obbligatorio. Voglio vedere un sacco di commenti con questo hashtag sotto. Per i fan della solo link. Mi raccomando. Mi raccomando ragazzi. Che hai trovato Stalker. Che veramente. Tormentava Creepy nella solo link. Vabbè. 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 Non lo catturrò mai. Oddio. Zuccata di Stalker. Guarda. Che sono anche tipo volante. Incredibile Stalker. No. No. Al contaccolpo. Zuccata. No Stalker. No. Ti prego. Ti prego. Ti voglio bene io. Stalker. Guarda. Ti metto anche nella Shake Ball. Perché sei carino. E veramente. Ti prego. Sei un buon Pokémon. Stai nella Shake Ball. Attenzione. Ci sta. Due. Due giri. No ragazzi. Stalker. Vediamo un po' se si butta giù. Due. No. Mille bave fa. Però. Se fa ancora una Zuccata. È un po' un pericolo. Perché si butta giù da solo ragazzi. Va a KO per forza. Perché il contaccolpo è veramente troppo. Troppo grosso il contaccolpo. Quindi. È un po'. È un po' un'arma dopo taglio Zuccata per lui. Per questo Stalker della Soul Link. Dai. Dai. Stalker. E niente ragazzi. Stalker. Rip Stalker. No. Non Rip Magico. Rip Stalker. È andato ragazzi. Non ci posso fare niente. Purtroppo si è tirato giù da solo. Era uno Stalker un pochino. Un pochino kamikaze. Quindi. Non posso farci nulla. Fantastica. Quindi. Per andare avanti ragazzi. E finire l'episodio. Di arrivare a rimettere. Prima cosa. Un bel super. Non repellente. Un bel super repellente. Perché sono qui veramente. Ci mettiamo le. Le epoche. Veramente gli anni luce. Per rimanere in tema. Ulta solta luna. Perciò. Ok. Gaydos. Sì. Gaydos. Sharpito spacca tutto. Incredibile. E qua. Allora. Qua non c'è nulla che mi interessi qua. Sinceramente ragazzi. Ve lo dico. No. Non quel tizio. Ok. E. Dovei già essere. Nella sponda opposta. Del percorso 16. In teoria. Vediamo un po'. Sì. Eccomi qua. Questa mi vuole sfidare. Oddio. Mi vuole sfidare. Senti. Cosa vuole. Cosa vuoi. Dal dammi. Ma come ha fatto. Ma come ha fatto. Ma. Ma cos'è. Un roll. Un gufo. Che gira il collo di. Non so. Non lo so. Ancora. E mamma mia. Tre pokemon pure. Dodrio. Che era. Il primo dominante. Cosa. E un Dodrio. Gusto menta. Oh mamma mia. Quanto è inquietante. Dodrio. Dodrio verde. Non l'avevo mai visto. Dodrio shiny ragazzi. Veramente. Top però. Ci sa tantissimo questo Dodrio. Vai disaster. Tocca di notte. Quindi. Speriamo che non abbia mosse fuoco. Lotta. Soprattutto lotta. Soprattutto lotta infatti. Vai quindi. Disastro. Cosa. Carica parabola. Questa qua era. Contento te. Io per l'altro ti faccio un bel gelodenti. E sono molto più contento. Mi fa un po' di danno effettivamente. Questa mossa elettro. Però questo giorenti farà ancora più danno. Non ho shottato. Pensavo di shottarlo. Invece no ragazzi. Ecco. È proprio continuo eh. Oh. Convinto eh. Vabbè convintissimo. Si ricarica pure la vita questa volta. Vabbè finta. Una bella finta ragazzi. Un bel gioco. E via. Una bella finta alla calcistica. E siamo a posto. Poi. Crefable. Quindi devo per forza mandare. Dovei mandare Gaemon a questo punto. Per forza ragazzi. Con pugni. Pugno scarica. E siamo veramente on fire con Gaemon. Eppure c'è pure società. Quindi siamo veramente on fire. Dai. Crefable. Sarà pure shiny? No. È un Crefable normalissimo questo qua. Che però. Subirà un pugno scarica. Molto molto devastante. Quindi. Stub. Vediamo un po' se lo shottiamo. Non credo. Perché è molto resistente. Elettromistero. Tutti con queste mosse elettro. Molto molto strane. Ma tanto. Non mi shottate. Non ce la farete. Non ce la farete. Poveri illusi. Poveri illusi. Non ce la fate. Non ce la fate. Ecco. Contro rocce. Delle sue equite. Nulla è possibile. Quindi. Bye bye. Bye bye. Poi. Ultima Pokémon. Vediamo un po' cos'è. Uno Stini. Vabbè. Ci sta. O elettromarcia. Oppure elettromarcia. Un piccolo Stini. Che subirà la retro. La retro. Del nostro. Gaemon. Vediamo un po'. Lo buttiamo giù. Ovviamente. Sì ragazzi. Stub. Incredibile. Di poco le otto. E Gaemon. Porta a casa la battaglia. Sconvita Maya. Maya che mi ha abbastanza fatto perdere tempo. Però. Dettagli ragazzi. Dettagli. Ok. Allora. Qualcosa abbiamo? Nient'altro. Se non ricordo male. C'è il percorso 16. Che faremo poi nella prossima parte. Con la villa del Team Skull. O meglio. La città del Team Skull. Quindi ragazzi. Per finire la parte. Scriverò un uovo. Uno. Perché sennò. La parte viene veramente troppo troppo lunga. E non vorrei fare. Insomma. Una parte troppo. Non dico noioso. Perché le cose abbiamo fatte in questa parte. Però. Una parte troppo. Dispendiosa. Insomma. Di energie. Visto che è un gameplay. È sempre difficile da guardare. Ragazzi. Si è sviluppato in questo periodo. Perciò. Facciamo così. Allora. Ci sono due Pokémon. Quindi. Scamiamo Spawn. Ragazzi. Che è un ottimo Moonset. E andrò. Qui. Qua. Qua nel box 12. Allora. Box 12 ragazzi. Veramente pieno. Il box 12. Vediamo un po'. Proprio vicino. Proprio. Si fanno compagnia almeno. Ok. Abbiamo. Gang. Ragazzi. Come le Team Skull. Una gang di cattivi. Pronta all'azione. Vediamo un po' chi è. Sarà un Pokémon. Ah. Repellente. Mi ha trovato il repellente. C'è uno del Team Skull. Chiede da bere. Ok. Va bene ragazzi. Chiede tipo. Gli alcolici. Allora. Perché non si sta schiudendo quest'uovo? Uovo. Non si schiude? Oh. Ah. Ok. Ok. Ci ha messo tre ore. Ci ha messo quest'uovo a schiursi. Quindi. Ok. Onesto. Bene. Vediamo un po' chi è ragazzi. Gang. L'uovo di questo episodio. Sarà un. Ma di nuovo. Tanto. Tanto è il Pikachu del film questo qua eh. È il Pikachu col capello del film. Quindi abbastanza raro come Pikachu. Vabbè. Ok. Ok. Gang. La gang di Pikachu immagino sia il riferimento al nome. Ok. Quindi gang. Mi piace. Mi piace come nome gang. Per un Pikachu volto tutto. La gang di Pikachu fa molto. Fa molto badass. Molto cazzuto questo Pikachu. Ok. Quindi. Ragazzi. Pikachu del film. Quindi Pikachu evento. Schiuso. Sarà un Pikachu. Deciramente potente immagino. Vediamo un po'. Pikachu. Del film. Gang. Con natura ritrosa. Statico. Abisso. Quindi mad mad madonna confirmed. Aerocolpo. Ascisa del drago. E tossina. Beh. Le mosse sono veramente ottime. Ragazzi. Che dire. Nella prossima parte andremo verso la villa. Team Skull. Faremo altre creature. E studieremo altre uova. Mi raccomando. Massimo supporto. Poi possiamo superare come sempre i 300 like. Un bel commento qui sotto. E come sempre una bella descrizione al canale. Per oggi. Il buon Rocket è tutto. Quindi un saluto a Rocket. E ovviamente. Bye bye.